Buongiorno, siamo oggi a parlarvi di Fila, un'azienda leader nella pulizia, nella protezione, nella conservazione di vari materiali tra cui ceramiche, legno e tutti quei materiali che possono essere usati per la realizzazione di pavimentazioni. Nella linea Fila troviamo pulitori, consolidanti, idrorepellenti per pavimentazioni sia interne che esterne. Vi raccomandiamo per questo tipo di lavorazione e di manutenzione di usare prodotti specifici, ne esistono veramente tanti. La nostra gamma è molto fornita anche a livello di protettivi antinfiltrazioni. Vi invitiamo quindi in negozio per studiare con voi la soluzione più indicata per le vostre problematiche e per le vostre pavimentazioni.